Probabilmente la e-bike più piccola, peso piuma e a basso costo del mercato. Vi presento Heatway BK35. Paco piccolo, imballato molto bene, 24 kg. Vamos! Gift box. Sella, catare frangenti e chiavi per il montaggio. Un sacco di accessorio omaggio. Abbiamo una catena di chiusura, le istruzioni con garanzia, il cuore della bici, ovvero la batteria, carica batterie con presa classica A-Jack, 1240 presa europea italiana. Chiarazione di conformità firmata da Heatway a livello europeo. Moda pompetta, marchiata, Heatway. Sto sudando per il caldo, non certo per il montaggio che mi impegnerà per soli due minuti. Cinque passaggi. Apriamo la bici. Con il kit in dotazione andiamo a mettere la chiusura circolare, blocco di sicurezza in questa posizione. Un momento di inserire la sella, guardare la stacca dell'altezza e bloccare. Alzare il piantone, prendere il manubrio e inserirlo all'interno del suo percorso. Così. Blocchiamolo. Alziamo il piantone, sblocco e riblocchiamo. Liberiamo le due chiavi. Una mano sulla batteria, una sulla chiave. Togliamo il blocco con la chiave e spingiamo la batteria. Con chiavi e bulloni è ora di fissare i quattro catre infrangenti di obbligo per legge italiana. Successivamente come optional possiamo bloccare il lucchetto utilizzando questo fermo. Con questa bicicletta elettrica pieghevole BK35 apriamo una nuova frontiera per la mobilità mini green urbana. E bike mini grande qualità. Tre sono i punti per me fondamentali di questa bici. Allora, stile unico. Non avevo ancora visto e presentato sul canale una bici con un design che può piacere o no ma così nuovo. E soprattutto con una gestione della batteria di questo tipo. Piccola e comoda. Ne abbiamo già viste altre ma questa è davvero leggerissima con i suoi 17 kg. È un peso piuma. Si ripiega in un attimo e davvero è comodissima per ogni trasporto urbano. Molto conveniente. I prezzi si sono davvero abbassati e la qualità è alzata. Lei è forse una delle migliori qualità prezzo mini e bike sul mercato. Telaio compatto facilmente pieghevole realizzato con un alluminio aeronautico e acciaio. 17 kg, un peso veramente piuma, leggera e portatile, chiusa in un bagagliaio, entra in un attimo. 79, 44, 66 cm. Queste le sue misure. Può essere messa in un ascensore o addirittura sotto la scrivania. Tuttavia può trasportare 120 kg di peso e persone da 1,55 a 1,85. Io la guido ancora abbastanza bene anche se le gambe iniziano ad avvicinarsi molto al manubrio. Un design elegante e minimalista con questa forma molto squadrata e la sua batteria nella parte esterna. Mantiene anche se piccola dei bellissimi cerchi in alluminio che sono davvero molto carini. 16 pollici. Un'altezza del manubrio regolabile come anche la sella con anche le tacche di indicazione. Postura assai confortevole e soprattutto sicura con i ganci di sicurezza che sono qui e qui con questo nuovo gancio che forse non è bellissimo ma è davvero molto molto performante e chiude veramente bene che ti permettono di avere una sicurezza ulteriore in bici così piccole che a volte risultano pericolose. Motore legale 100%, questo è molto importante, 250 watt brushless nella parte posteriore. Mi assiste a tre velocità molto chiare e semplici 10, 15, 25. Le salite fino a un 10% e comunque salite da città si fanno molto bene. Mono corona con un unico rapporto, ecco questo se siamo e viviamo in paesi con colline e dislivelli molto ampi ecco non la consiglio. Una batteria removibile da 16 volt 48 ampere. Una bici che però ha 30 newton e quindi spinge parecchio anche appunto nelle strade dissestate e delle salite medio piccole. Una batteria removibile davvero piccola e carina che si mette nello zaino per la ricarica davvero ovunque agli ioni di litio 36 volt 6 ampere. Finalmente una batteria che si carica in tempi stretti 4-5 ore l'abbiamo piena per percorrere i suoi 25-60 km. Io l'ho testata e vi posso dire che ci aggiriamo più attorno ai 40-45 passando dalle tre assistenze che abbiamo a disposizione. Una doppia chiave di sicurezza che vi permette di rimuovere comodamente la batteria e diventa anche un bell'antifurto. Display modello S866, un LCD monocolore, multifunzione con le funzioni classiche, velocità, chilometri percorsi e altri parametri classici. Pneumatici da 16 per 2,5 con un buon grip. Non nascono ovviamente per strade troppo dissestate o ghiaia, ma per strade che comunque hanno dei dossi o sono ad esempio fatte di terra ecco che non abbiamo alcun problema. Purtroppo non è ammortizzata, in qualcosa dovevano pure risparmiare per un peso più leggero e quindi questo un po' si sente durante la guida. I freni a disco sono classici 16 mm con una buona pinzata, fin troppo rischi anche di capottarti se tiri troppo i freni e non li hai regolati. Pedali che si piegano comodamente, che si uniscono a uno Urban Kit davvero completo. I due parafanghi che sono molto leggeri e comodi, luce led che si accende dal display. Abbiamo il campanello integrato e si sente molto bene, non è elettrico ma si sente molto bene. Abbiamo anche un cavalletto che vi dico è veramente minimal, questo mi ha un po' deluso. Attenti veramente perché la bici rischia di cadere se non stiamo ben attenti a come lo inseriamo. Abbiamo questa chiusura e le altre chiusure che sono veramente di sicurezza e molto valide, catari frangenti nelle ruote come da normativa e anche dietro. Ovviamente dietro non abbiamo una luce che ci viene fornita, possiamo comprare noi quelle ad esempio USB. E una sella, una sella che è praticamente professionale come quella delle mountain bike, però dopo poco diventa davvero dura e scomoda. Secondo me è una delle prime cose che andremo a cambiare, per quanto io ami comunque anche le mountain bike e le bici sportive. Itway come sempre vi fa un pacchetto di ricezione molto ben fatto e con tanti oggetti optional. Non abbiamo un acceleratore come in tanti di questi modelli, ma abbiamo una pedalata assistita che è molto particolare. Ovvero noi partiamo, la bici inizia ad andare e la nostra pedalata alla fine, soprattutto al livello 3, è una pedalata finta. Cioè noi pedaliamo solo per mantenere attiva la velocità dell'assistenza, quindi praticamente abbiamo un acceleratore senza avere un acceleratore. Ecco, se siete amanti della pedalata costante e un po' della fatica costante, ecco questa secondo me non è la bici per voi. Questa è una bici comodissima per chi davvero vuole sudare poco, cosa che non sto facendo io con questo sole di luglio che mi sta facendo morire. Impermeabile IP54, sì gli schizzi vanno bene ma non bagniamola troppo. Arriva dai magazzini europei, ci mette un attimo ad arrivare, imballata da dio e si monta, come avete visto, in pochissimo. Con 450 euro è qui il punto forte, praticamente la carichi sul baule e parti. Perfetta per tutte le persone che hanno mobilità urbana urgente e hanno bisogno di muoversi in città, per chi ha un camper, per chi ha una macchina, ne puoi caricare tranquillamente due o anche forse tre e andartene in vacanza. Ho fatto vari test su più terreni, questi sono due di quelli che ho affrontato. Potete vedere che ha un'ottima accelerazione in salita. Per le strade il piantone dello sterzo trema un po', sella è, come vi dicevo, un po' dura ma si regge bene per i primi 20-30 chilometri. Non è ammortizzata ma regge bene con una struttura che è parecchio parecchio ben studiata. Bella bella frenata, è veramente molto reattiva. Ragazzi sono le conclusioni, la consiglio a tutte le persone che hanno un budget piccolo, vogliono qualcosa di moderno, ricaricano la bici soprattutto in ufficio o quando hanno uno zaino e infilano la batteria comodissima da spostare dentro uno zaino, da caricare in macchina per un rappresentante, per chi ha tratti 20-30 chilometri da percorrere. Questa è davvero la sua bici. Se anche questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, stanno arrivando tanti nuovi modelli e tanta recensione di prodotti high-tech, soprattutto green. Ciao ragazzi!